Musica Musica Occhio a Janis Blooms, recupera palla però fresco a dolce dalle mani del Nettone e va ad inchiodare la schiacciata nel trifugio del Palacarrara Musica 26 pistoi a Wayne Blackfield, serve Alex Kirk, questa volta non commette inflazione di passi ma vola a canestro a inchiodare la schiacciata Musica No, questa è una grande squadra Tanto scusate che ti interrompo perché Pistoya recupera il pallone anche con il pallo e il tiro libero aggiuntivo, si è messo in moto Paperinic Musica 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 Musica